Anzi a tutti fratelli, sono Pierpaolo e questa è la mia guida al poker di Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 offre a tutti i giocatori la possibilità di affrontare degli intensi match a poker entrando in alcuni saloon oppure visitando l'accampamento della gang di Vanderlind. La posta per iniziare a giocare dipende dalla location. I tavoli di Saint Denis sono generalmente i più ricchi, ma se non volete rischiare troppo partite dal vostro accampamento dove con un solo dollaro potete sedervi e giocare. Le partite rispettano alla perfezione le regole della variante Texas Hold'em, con due carte nella mano di ogni giocatore e le cinque scoperte al centro del tavolo. Prima di darvi qualche consiglio e suggerimento per guadagnare il massimo dalle partite vi spiego come giocare al poker di Red Dead Redemption 2. Lo scopo del gioco ovviamente è quello di vincere il piatto battendo tutti gli avversari se si ha la migliore combinazione di carte possibile oppure ingannandoli con le proprie puntate così da convincerli a lasciare la partita senza venire a vedere la vostra mano. All'inizio di ogni mano i due giocatori alla sinistra del mazziere devono fare una puntata obbligatoria che prende il nome di Piccolo Buio e Grande Buio. Sono puntate automatiche in che in Red Dead Redemption Arthur farà da solo nel caso in cui spetti a voi doverle fare. A questo punto il mazziere distribuirà due carte per ogni giocatore nella cosiddetta fase preflop. Si tratta delle carte private, quelle che potete vedere solo voi e che in combinazione con le carte al centro del tavolo determineranno il vostro punteggio. Inizia quindi il primo giro di puntate che avvengono in senso orario a partire dal giocatore di fianco al mazziere. Durante il giro delle puntate è possibile svolgere tutta una serie di azioni che adesso vi spiego nel dettaglio. Prima di tutto c'è la bussata che equivale al passare rimanendo in gioco senza mettere alcuna fish. È possibile bussare solo se si è primi di mano o se i giocatori che ci precedono hanno bussato. Altrimenti c'è la puntata che equivale al mettere nel piatto un certo numero di centesimi o dollari. I giocatori successivi dovranno vedere quella puntata se vogliono rimanere in partita mettendo nel piatto la stessa quantità di soldi. Oppure potranno rilanciare mettendo un qualsiasi quantitativo di soldi in più oltre alla puntata del giocatore precedente. Se non si è disposti a vedere o rilanciare si è obbligati a lasciare la mano perdendo eventualmente qualsiasi soldo puntato nei precedenti giri. Nel poker è possibile anche fare l'all in, ovvero mettere nel piatto tutti i soldi che si posseggono sia che si tratti di una puntata sia sotto forma di rilancio. Quando si effetta l'all in non sarà più possibile fare puntate successive e si è ovviamente obbligati ad arrivare allo showdown finale. Se l'all in è in risposta a quello di un altro giocatore non è in grado di coprire l'intera sua puntata, Red Dead Redemption dividerà automaticamente il piatto facendovi vincere o perdere quello che vi spetta. Dopo il primo giro di puntate la mano prosegue con il flop dove vengono messe le prime tre carte comuni scoperte al centro del tavolo. Quindi c'è il turn dove viene piazzata la quarta carta e poi c'è il river con la quinta carta, l'ultima, piazzata sul tavolo. Al termine di ognuna di queste fasi c'è un nuovo giro di puntate. Se si dovesse arrivare alla fine delle puntate del river con almeno due giocatori ancora in gioco si procede allo showdown, il momento in cui i player mostrano le loro carte e si scopre chi ha vinto. Ecco la scala dei punti nel poker Texas Hold'em. Se i due giocatori dovessero avere lo stesso punteggio a stabilire il vincitore sarà il kicker, ovvero la carta più alta tra quelle restanti in mano. E adesso passiamo ai consigli per cercare di portarsi a casa quanti più soldi possibile giocando a poker in Red Dead Redemption 2. Numero 1. Giocate sempre in modo aggressivo ma senza esagerare. Se a voi spetta la prima puntata cercate di far partire il piatto già bello alto puntando qualche soldo in più rispetto al buio e alla semplice bussata. Anche durante i rilanci cercate sempre di far sborsare qualcosa di più rispetto a quanto puntato dagli avversari che vi precedono. Ma state attenti. Se puntate troppo in alto gli altri giocatori tenderanno a lasciare la mano a meno che non abbiano delle ottime carte. Usate quindi questo stratagemma in base alla vostra voglia di arrivare fino allo showdown finale. Numero 2. Studiate sempre le puntate dell'avversario. Tenete sempre sott'occhio chi punta prima di voi. Se ad esempio gli avversari tendono a bussare oppure non rilanciano mai vuol dire che in mano non hanno un punto e magari neanche una carta molto alta. Sfruttate quindi la situazione a vostro favore. Se avete un buon punto tenetevi sempre bassi nelle puntate e nei rilanci per far venire quanti più avversari possibile allo showdown. Se invece non avete nulla bleffate e alzate le puntate per scoraggiarli. Ma occhio perché se un avversario vi continua a seguire vuol dire che ha un punto quindi potrebbe avere senso mollare la mano il prima possibile. Numero 3. Se siete il giocatore più ricco del tavolo sfruttate l'all-in. Direttamente collegato ai tuoi consigli precedenti cercate di sfruttare nel migliore dei modi l'all-in specie se siete il giocatore con più soldi tra quelli seduti al tavolo. In basso a sinistra durante le partite è sempre visibile il quantitativo di fish che ogni giocatore ha e questa indicazione vi risulterà comoda in moltissime occasioni. Quando sapete che gli altri giocatori non hanno abbastanza conio per seguirvi iniziate a fare all-in se volete farli uscire prima dello showdown finale oppure se siete convinti della vostra mano e un avversario continua a vedere le vostre puntate fatelo sbancare puntando l'all-in. Mi auguro che questa guida sia stata di vostro gradimento. Se è così ricordatevi di lasciare un mi piace su YouTube oppure fatemi sapere nei commenti cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi video di Red Dead Redemption 2.